il brazo dei ragazzi e bentornati in questo nuovo video di giovedì 2008 ragazzi ora ragazzi oggi video molto breve ma ci vengo a dire una cosa ragazzi grazie 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 mille per i 400 iscritti ragazzi grazie non riesco a fare il cuore però grazie di cuore grazie di cuore ragazzi e nulla sono davvero felice per aver raggiunto questo te lo guardi insieme a voi mi raccomando per lasciare un bel like a questo video nulla ragazzi che dire sono davvero felice nulla 400 iscritti grazie ragazzi appena posto ragazzi vi porto subito lo speciale subito ragazzi subito ve lo porto ragazzi e nulla mi raccomando iscrivetevi al canale ragazzoni iscrivetevi puntiamo ai 500 ragazzi puntiamo ai 500 e nulla mi tengo a dire una cosa ragazzi sono veramente felice non so come ringraziarvi se mi fate 400 sono felice di questo traguardo che ho raggiunto insieme a voi e noi ragazzi mi trovo a risultare insieme a voi appena aver raggiunto i 500 ragazzi vi lancio questa sfida impossibile ma proviamoci riusciamo ad arrivare ai 500 ai 500 iscritti prima che finisce l'anno vedremo vedremo ragazzi ragazzi quindi mi raccomando un bel like iscrivetevi 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 al canale di andre mi raccomando ragazzoni e nulla iscrivetevi iscrivetevi al canale di andre sono felicissimo questi 400 iscritti e nulla puntiamo anche 100 per andre ragazzoni non so che dire grazie 400 iscritti grazie di cuore riuscitevi a tutti i social cattolate i miei social in descrizione tiktok e instagram e detto questo raga 400 iscritti amore non ci credo bella raga non ci credo